Vi ricordate che lo scorso episodio abbiamo chiuso il video proprio mentre stavamo per andare al matrimonio? Bene, abbiamo bugato tutto Esattamente, quando siamo rientrati nel gioco non potevamo più andare al matrimonio e non ce l'avevamo più neanche tra gli eventi Esatto e non potevamo neanche richiedere a Diana di sposarci, cioè penso che si sia proprio bloccata la relazione Infatti abbiamo dovuto fare un sacco di cose per scendere diciamo al livello prima, come lo posso dire? Esattamente, siamo scesi di relazione e ci abbiamo messo due ore ragazzi perché non c'era modo di farla arrabbiare Quindi abbiamo semplicemente dovuto giocare per ore e ore e piano piano farla stancare di noi Esatto, Diana è troppo brava vedi, ci abbiamo dovuto mettere un sacco di ore perché non ci voleva mollare Comunque possiamo iniziare e speriamo che stavolta vada tutto bene Speriamo bene E ragazzi, come va? Io sono Feriniti E io sono Steph, benvenuti in questo nuovo video di Youtuber Strike E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno che per oggi sono Matteo, Sebastiano, Paolo, Gianluca, Spettro e Samuele Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione e possiamo iniziare Oggi ce la dobbiamo fare, dobbiamo assolutamente fare il matrimonio Io guardavo sempre a lui, quando non gli diamo nulla da fare lui balla ragazzi È sempre felice, vorrei essere felice come Erwin nella vita, te lo dico Dovrebbero dargli la possibilità di aprire un canale di ballo perché davvero guarda Oppure di giocare a Just Dance Esatto Penso che sarebbe brevissimo, sì, lui balla sempre sempre contento Allora Io so da che cosa iniziare, te lo posso dire? Lo so già, lo so già, stiamo pensando alla stessa cosa, vero? Compriamo i vestiti per il matrimonio Esatto, perché non dobbiamo più rischiare ragazzi Esatto, perché abbiamo notato che una volta che facciamo la proposta il matrimonio è davvero veloce Non ce lo possiamo perdere e dobbiamo avere i vestiti giusti Perché io non accettavo l'idea di andare al matrimonio vestita come si veste serenissima Cioè ce l'abbiamo sempre, quel vestito dai, almeno qualcosina di un po' più formale Magari questa, tuxedo formale Dici che è la cosa più elegante? Guarda c'è anche in blu, bellina anche in blu In blu era bellina, vero? Perché vedi? Cioè se no ci vestiamo da supereroe ma eviterei Contando che sembra che abbiano dieci anni ci potrebbe anche stare che si vestano da supereroe No, blu o nera? Che dici? Dai nera, andiamo sul classico Mi sembra la cosa più carina da poter mettere Quindi ci servono poi i pantaloni tuxedo perché si chiamano tuxedo Non eleganti, tuxedo Aiutami, io non li trovo più Non ci sono Houston abbiamo un problema Ed ecco come si vestirà Sereniki per il matrimonio Guarda le stats perché ci hanno fatto notare più volte che ogni vestito dà un bonus In questo caso ci dà il bonus per il formal wear quindi per il vestito elegante Esatto E poi come colore siamo tutto nero Vedi abbiamo otto sul nero E bellino dai, secondo me può andar bene per un matrimonio Sì, va benissimo Vabbè, ora vestilo normale Ah, lo vuoi lasciare? Ah, ok No, 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 lo lasciamo così Sì, per ora sì, non ha senso Anche perché dai, così almeno Diana lo vedrà vestito elegante solo per il matrimonio Esatto, mica le facciamo vedere il vestito già da adesso In ogni caso dobbiamo riconquistarla Quindi andiamo a riconquistarla E poi andiamo al matrimonio Ce l'abbiamo fatta Come vedete questa volta abbiamo subito controllato il calendario Perché ho davvero il terrore che qualcosa non vada bene Ed è l'indomani Vedi proprio ti sposi subito l'indomani Io non voglio criticare il gioco ma neanche a Las Vegas ci si sposa il giorno dopo Cioè ma come fai, capito? Fai l'anello Cioè come accidenti dovresti fare a comprarti l'abito Invitare le persone No, 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 lasciamo perdere che è meglio È tutto velocissimo ma vabbè Io so come fasteggiare questa bella notizia Oh no, non ce l'ho la pizza Mangiamo degli spaghetti Gli spaghetti Ok, guarda Ci dobbiamo vestire per il matrimonio Ci siamo, ci siamo, ci siamo Gli abiti ce li abbiamo Questa volta siamo pronti Cerchiamo di non baggare di nuovo tutto Ok Siamo pronti Allora, niente cappellini Mi dispiace, non ne vogliamo Guarda la giacchetta Allora, questa Poi avevamo i pantaloni che sono questi qui Poi le scarpe sono queste E il fiocchettino E il fiocchettino che è il tocco di classe Il papillon, se proprio vogliamo dirlo giusto Ok Andiamo Oh mio Dio Sono troppo emozionata Daiana Non le rimane Devi venire con noi Daiana Daiana Stavo andando a giocare a Monopoli, hai notato? Ho notato, sì Ci siamo, ci siamo Dai, dai, carica in fretta Ma si blocca No, no Ma lei è bruttissima come vestita Io non ci credo Ma dai Guardali Che bellini Oh mio Dio, che carini Come sentire la musichetta Aspetta Che bellino C'è proprio la musichetta Non rovinare tutto Zitto Zitto Non rovinare tutto Cantando Guardali Oh mio Dio Che carini Nostra Giusto Sì Immagino di sì Sta già partendo male Già attaccata le nostre console È già fatto shopping È già fatto shopping È già fatto shopping E anche sposati che già ci ha fatto shopping Diana Diana Fai da brava Mi raccomando Visto che ormai abbiamo Diana a vivere con noi Questa casa inizia a farsi un po' stretta Diciamocelo Inizia ad essere un pochettino stretta Quindi io ti dico Vuoi cambiare casa? Cambiamo casa No, sul serio Allora Abbiamo 2300 dollari Che non sono male Ma secondo me non bastano Quindi cosa facciamo? Cambiamo il computer Al nostro collaboratore Così può fare più video Ok Ci mettiamo a bomba Arriviamo a 4000 dollari E cambiamo casa Ti piace? È proprio decisissimo Dopo il matrimonio è deciso E guardala Guardala È già attaccata sempre Il nostro computer Ha smesso di fare i suoi video Non si sa perché Ha abbandonato il suo canale Una volta che ti sposi Non fai più video Come funziona? Non lo so Non lo so Allora spostati ti prego Grazie Ok Grazie Diana Vai a fare un altro po' di shopping Esatto Ce l'hai fatta? Le sto comprando un po' di cose Stiamo spendendo parecchio Però è un investimento al futuro Guarda che ci dobbiamo anche trasferire Non puoi spendere troppo Ok Ok E sempre ci sta risalutando Ma quando è uscita? Io neanche l'ho vista uscire Ma poi adesso ha detto Ciao tesoro ti vorrei vedere Ma vivi con noi Ci vedi tutti i giorni Non capisco ogni tanto Questi messaggi che appogliano Non lo so Sono un po' sconnessi rispetto al gioco E indovina cosa fa lui? Balla Lei? Usa il computer Bravi bravi Hanno preso il possesso di casa nostra Vero È incredibile Allora Ok Abbiamo tutto Nuovo computer Ok Cosa dovrebbe arrivare? È un sacco di roba Ah ecco ok Ok Tastiera Bella questa tastiera È vero? È carina Questa è carina Se non stavo guardando durante lo shopping Ma hai scelto Mouse No il monitor Ok Il monitor è bello Anche il monitor Ok È tempo di fargli fare il gioco dei poni Credo che gli piacerà tantissimo Dei poni Sembra un gioco di macchina Anche se poi a volte il titolo non corrisponde tanto alla copertina Guarda Con due Guarda i fulminetti Guarda i fulminetti Siamo quasi alla pari Ormai una postazione con i controfiocchi Controfiocchi Con i fiocchi Te la sei Come si dice scusami Con i fiocchi I controfiocchi Non lo so È una nuova parola che ti si è inventato Ok Prendiamo Si è capito il senso Ok Quello è l'importante Si è capito il senso È una bella postazione Mettiamola così C'è un problema Che cosa Ho appena bugato il gioco Di nuovo Stanno registrando in contemporanea sia Erwin che Sereniki la stessa cosa E sono una sopra l'altro Sembrano un mostro Sembrano un alieno Ci fa impressione Io ho paura per chi guarderà il video Potrebbero vedere cose strane Riusciamo a bugare tutto Tutto a noi ormai Abbiamo davvero un talento per i bug Vero Io non ci credo Ci sta comprando sorprese tutto il tempo Adesso Ma bello Bellino Bello questo Un adesivo per il muro Cosa sarebbe una sorta di Pac-Man Con poi la vice delle spazelle Ma è troppo bellino È bellissimo Mi viene ranzo con la casa È troppo carina Ci sta benissimo lì Brava Diana Se ci sistema la casa Può anche smettere di fare i suoi video Pensiamo nei soldi insieme a Erwin Guarda a destra Guarda quanti video stiamo facendo in contemporanea E ne stiamo già registrando altri due Cioè non ci possono fermare ormai Scusa un attimo Quando Diana fa shopping Non usa i nostri soldi Vero? No Hai notato qualcosa? Mi sembra di no Però Meglio Non lo so eh Sai cosa vuol dire questo? Decorazioni per la casa gratis Ecco cosa vuol dire Eh però le sceglie noi Lei Cioè la cosa più divertente La comprarci le decorazioni Ma non mi interessa L'importante è che ci siano cose in più gratis È figo Ok Se sei felice va bene Poi se proprio ci piace qualcosa ce la compriamo anche da soli Esatto Ma almeno tutto il resto lo abbiamo gratis Ok lei Abbiamo 2240 Due video in upload Un video che ci sta per dare altri 400 Andiamo Ed Erwin che balla Ed Erwin che balla Ha già capito che ce ne stiamo per andare via da questa casa Ed è felicissimo E quindi balla Balliamo anche noi con lui Abbiamo appena pagato 861 di affitto Ok il nostro entusiasmo si sta distruggendo in questo momento Sì comunque paghiamo Erwin 541 dollari Cioè quasi quanto l'affitto Quasi quanto l'affitto No di più dell'affitto in questo momento eh Perché quanto paghiamo da affitto? Da affitto paghiamo 320 Non è 800? No è il prossimo che costerà 800 Ma mi sono confusa Abbiamo pagato in tutto 800 Perché c'era anche il suo stipendio Esatto Che io ho capito Mamma mia quanto lo paghiamo Però andiamo Andiamo Dai dai Così abbiamo il terzo collaboratore E iniziamo a fare soldi In una maniera Appalate proprio Dai 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 Sono curiosissima Non vedo l'ora di vedere il nuovo appartamento Deve essere bellissimo L'hai visto quanto è grande? Appartamento di lusso E lui è vestito di lusso Guardala qua Deve andarci proprio vestito elegante Risfrutta sempre il completo del matrimonio Ma va bene In realtà ce l'abbiamo dal matrimonio Non l'abbiamo mai cambiato Ma sono dettagli Non importa Dai dai Uuuuh Ma guarda È l'attico di un palazzo Ma c'è pure il balcone gigantissimo Oh mio dio è gigante Allora Ok Siamo nella nuova casa Ah ok Nel momento in cui è arrivato in questo appartamento È entrato anche a far parte di un network Non si sa perché solo adesso ci entra a far parte Ma va bene Facciamo finta di nulla Allora Diana Diana Che succede? Abbiamo perso Diana Diana non è venuta insieme a noi Cosa vuol dire che non è venuta insieme a noi? Non lo so guarda È arrivato Erwin che balla come sempre Ma Diana non è venuta Cioè non ci ha seguito nel nuovo appartamento Cioè comunque la cosa che ci aveva comprato È notata è notata è notata è notata È forse questa è l'altra cosa che aveva comprato O era della stessa? Non lo so Non me lo chiede Scusami ti devo far notare una cosa Oh mio dio Perché abbiamo lo studio musicale? Non lo so però è bellissimo Possiamo assumere un musicista? Un musicista che ci fa le canzoni? Forse sì È una figata Allora poi iniziamo a comprare un computer di base Postazione basilare Abbiamo perso Diana Allora Ascoltami un attimo Abbiamo fatto un casino improponibile per riuscire a sposarci Ci abbiamo messo tantissime ore per sistemare il gioco E lei non ci segue nel nuovo appartamento Sei serio? E per di più Dimmi che è al pieno di sopra Ti prego dimmi che è al pieno di sopra No ti do una brutta notizia Al pieno di sopra c'è la nostra postazione Quindi ogni volta dovremo salire per dormire Per cambiarci Per fare i giochi Sarà scomodissimo Ascolta mi è venuta un'idea Ok Prova ad invitarla a casa Ok E vediamo se rimane Non so che dire Cioè nostra moglie e lei non rimane Diana Nuovo appartamento Ok sta venendo Guardiamoci però un po' la casa perché è troppo bellina Abbiamo qualcosa di corso E guarda c'è cosa di Minecraft qua sopra Sì Come si chiamava? Minocraft 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 Qualcosa di strano Qua abbiamo il trofeo finalmente vicino al letto Per ricordarci che siamo dei campioni Assolutamente Il frigo perché abbiamo sempre fame Infatti mangiamo Quello rimane sempre uguale Ce lo portiamo dietro da non so Dalla prima casa L'abbiamo rubata la mamma Esatto Ce lo portiamo Guarda che bellino il creeper qua Che carino Ma guarda che bello anche qui dietro La tv gigante E perché questa sedia? È bellissima Io la vorrei Guarda che figa Sembra comodissima Comodissime Siamo meglio della nostra Comunque abbiamo già quella dopo Oddio Questa è una villa Questa è una villa gigante Ma guarda No il costo mensile è folle È folle Oddio Allora La lasceremo perdere per un bel po' di tempo 2500 al mese Ci credi che possiamo comprare un'intera mansione? Non mi ricordo come si traduce Una villa con piscina Sì È incredibile È incredibile Sarà bellissimo Abbiamo un nuovo obiettivo Allora Erwin Devi fare subito un video No ho sbagliato Io ho una sorpresa per te Uh E chi è questo bel giovinotto? Eh Guarda che carino È il nostro nuovo collaboratore Carino Mi piace Sì L'ho scelto bene Sì Come l'hai scelto? Fammi sapere A casaccio Stavo chatando al computer Mi è sembrato simpatico Gli ho detto dai Vieni a casa C'è spazio Registri insieme a noi È carino Sono contenta della tua scelta Mi piace Mi piace Assumiamolo subito L'hai già assunto No no Stavo avendo qualche problema Mi dei Ok Ah ok Va bene No dobbiamo esserci un po' più amici Allora Ok Facciamo salire la relazione E poi lo assumiamo Erwin dove sei? Diana comunque sta rimanendo Sì ma ha rubato il computer di Erwin Vabbè Eh vabbè Questo non ci possiamo fare nulla Guarda Super Mario di nuovo Dopo tanti anni Bellissimo Lo riportiamo Ok l'abbiamo messo in upload E adesso Dove cavolo se ne è andato quel tipo? Non lo so È andato al pieno di sopra Con tutti qui Aspetta Aspetta Calmiamoci Fermati Voleva visitare la casa Magari non ho mai visto un appartamento di lusso Scusami Fatemi vedere Guarda Siamo sulle nuvole Abitiamo sulle nuvole Ti piace No ma vedi ci sono i palazzoni Il nostro è il palazzo più alto di New York ormai New York È deciso che siamo a New York Sì Perché a New York ci sono i palazzi giganti Quindi è deciso che siamo lì Esatto Perfetto Perfetto Ok mi stanno accorto adesso che possiamo scegliere in che network entrare Sì ce ne stavamo dimenticando di questa cosa Sono tantissimi Cioè c'è LineTube Division Total Media Maxinima Che sarebbe Macinima Esatto Vabbè facciamo finta di nulla E poi White Vance Cosa saranno queste VIP card che ci richiede per entrare? Non lo so Oppure guarda Exclusive access to important events Quindi avremo l'accesso esclusivo ad alcuni eventi E qua Ah il business club Che cos'è? Non lo so Non ho idea di come si possa entrare Ma dici che ci conviene entrare in un network? No allora c'è scritto Praticamente per entrare in questo Tu devi fare almeno 200.000 views al mese 10.000 credo likes al mese Andare ad una festa Per forza VIP Per forza E poi avere 500.000 iscritti Noi ne abbiamo 385.000 Quindi io pensavo Per adesso entriamo in questo Perché ci aumenta di un sacco I soldi che facciamo dalle visualizzazioni Ah beh è vero E oltretutto siamo anche protetti nel caso di Cose di copyright Esatto brava Quindi possiamo usare anche le card con il copyright È una figata Entriamo 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 Ok Ok quindi adesso stiamo qua dentro Siamo solo noi Come funziona? Non lo so Come funziona? No ok Credo che vada bene così E tutto a posto E devi semplicemente entrare Te lo accettano E tu guadagnerai di più Esatto Ok È bellissimo È bello Sono molto molto felice Il paradiso Registriamo un video per festeggiare Così vediamo quanti soldi facciamo Così saranno subito soddisfatti del nostro lavoro Esatto Poi assumiamo al volo Armani Perché ormai lo voglio assieme a noi Ok E ci fermiamo così Però dobbiamo fare tantissimi soldi E soprattutto trovare il modo di fartonare Diana Perché è scomparsa Ok ci siamo quasi Stiamo per assumere Armani Guarda che bellino È troppo carino Secondo me ci farà fare Un sacco di visualizzazioni Non lo so Viene da fuori Sta facendo l'atmosfera Da fuori Magari era qualche aeroplano Siamo talmente in alto Con il nostro grattacielo Assolutamente sì Dai ci siamo Adesso lo potremo assumere per forza Ok 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 Assumilo Ogni volta sbaglio E apro il cellulare Non so perché Perfetto Perfetto E anche Armani È il nostro nuovo collaboratore Che nome che ha Armani Sì è bellissimo Allora adesso guarda Mettiamolo subito a fare un video Abbiamo già già video in ballo Sì 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 No sbaglio Io faccio collaborate video Perché mi piace di più Voglio collaborare con loro Hai semplicemente sbagliato Esatto Quindi non trovare scuse Non trovare scuse Allora Gameplay Ok Scusa vai Ho sbagliato stazione Ah no ok Non l'avevo ancora scelta Lui sarà il computer più brutto Perché deve prima di tutto migliorare Assolutamente Comunque è tornata Diana Sì questa volta è tornata da sola Penso che abbia finalmente capito Che abbiamo cambiato casa E che deve venire qua E non il vecchio appartamento Lo spero Lo spero sì Spero che si sia risolta sta cosa Perché altrimenti mi arrabbio davvero Io ti voglio far notare al volo una cosa Guarda le views 320.450 dollari Cioè ormai proprio Siamo youtuber inarrestabili Stiamo per comprarci la villa di Obama Ok ci fermiamo così Prossimo episodio abbiamo un obiettivo Entrare nel network più prestigioso di tutti Perché dobbiamo andare Ai cavolo di festival Ed è per VIP Puoi essere invitato ai festival Per i VIP Scusa abbiamo questa casa E non siamo considerati VIP Non mi sembra giusto Adesso Erwin balla pure in balcone Così lo vedono tutti Ma si metterà a ballare anche Armani Pensi che avremo dei ballerini in casa Tutti che ballano Non lo so Sarebbe fantastico Assolutamente Beh ragazzi il video faceva così Se vi è piaciuto Ascettaci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.